Grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in A4. Una giovane donna ha perso la vita e un ragazzo è rimasto ferito. Poco dopo l'area di servizio di Arino, di Dolo, con direzione Venezia, una Fiat Panda si è scontrata con un mezzo pesante. La collisione è avvenuta poco prima della deviazione per l'A57. I primi soccorsi sono stati prestati da un vigile del fuoco di Udine di Passaggio che ha iniziato le operazioni di rianimazione cardiopolmonare prima dell'arrivo dei sanitari. I vigili del fuoco arrivati da Mira e Padova hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato i soccorsi del SUEM. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiarare la morte della giovane donna di 20 anni. Ferito in modo lieve il conducente della Panda trasferito all'ospedale. Il leso, l'autista del mezzo pesante. Sul posto è intervenuta anche la Polstrada assieme al personale ausiliario di CAV. Durante le operazioni di soccorso, l'autostrada è rimasta bloccata.